Quanta soddisfazione può dare investire dalle 3 alle 50 ore settimana hahaaaaaaa Lezioni di musica irritantantantantant Non suonare mentre parlo Suonare mentre parlo Uè maestro la settimana scorsa me hai dato i conti Infatti Filibustieri impenitente Despoto a squinternato Caglioffo Suoticone Ti comincio per le feste cowboy, fatti sotto, vabbè come creare una canzone senza alcun despota squinternato ciao ragazzi oggi cominciamo le lezioni di chitarra e adesso gattini